ciao ragazzi guardate cosa c'è abbiamo qui il robottino a magno guardate ora ve lo mostro guardate qui c'ha i suoi comandi poi ve li faccio vedere qua può parlare con ma guardate ora qua ci può disegnare delle forme può disegnare anche qui una bacca una casa e poi questo si raccoglie per giocare a tabellone che c'è un tabellone giallo e un tabellone blu ragazzi guardate si può collegare anche a pad qua ci sono i colori ora passiamo a mind accendiamolo ragazzi le batterie sono quasi scariche guardate io ci ho cambiato la batteria a mind e funziona veramente ora ragazzi passiamo a lui ciao io sono mind sono carico e pronto a giocare programma selezionato esplorazione premi le prezze colorate per creare una sequenza di comandi poi premi ok per farmi partire oppure premi i pulsanti per disegnare ragazzi ragazzi il mind è perfetto per giocarci quindi disegniamo una bella cosa ma prima scegliete un colore qualsiasi volete scegliere il rosso azzurro nero il nero ok disegniamo un quadrato per me disegniamo un albero posizionami su un foglio bianco si parte ora parte vediamo ragazzi guardate ho fatto una bella fantastico ora ve ne mostro un altro ragazzi allora quale volete scegliere fra questi due rosso o fra azzurro non avete scelta lo scelgo io scelgo il blu ok ok ragazzi ci mettiamo qui disegniamo un triangolo disegniamo un quadrato disegniamo un rettangolo ok posizionami su un foglio bianco poi metti un pennarello sulla mia schiena quando hai fatto premi ok ragazzi ognuno di voi vuole premere ok nessuno allora premo io si parte vediamo ragazzi ha fatto un disegniamo un albero oh oh scusate ragazzi ora ci metto un colore per me io scelgo ora il rosso e poi mettiamo di nuovo l'azzurro e facciamo un'altra cosa disegniamo un triangolo posizionami su un foglio bianco si parte ecco qui un bel triangolo disegniamo una bella casetta e poi qui disegniamo una bella bacchetta in nero disegniamo un albero disegniamo una crescidra disegniamo una cava posizionami su un foglio bianco poi metti un pennarello sulla mia schiena quando hai fatto premi ok si parte ok ragazzi guardate è bellissima questa casa ci manca un'altra cosa di fare la casetta ora la facciamo un po' la faccio io ok ragazzi ora facciamo un'altra cosa invece facciamo ora la bacca ok disegniamo un albero disegniamo una crescidra disegniamo una casa disegniamo una bacca posizionami su un foglio bianco poi metti un pennarello sulla mia schiena quando hai fatto premi ok si parte ok vediamo è una bellissima bacchetta ragazzi adesso il mind vi salutiamo del prossimo video vi faccio vedere mind è il suo tabellone alla prossima ciao 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 ciao